Marco Camilli, all school throwdown, over 50. Quali infine? Ok. 12-3, 3-3, 3-3. Sì, sì. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Sì, sì. Stai andando bene, eh? Arco! Lasciali andare le braccia. Tiro, le lascio andare, poi riporto. Stai andando bene, è buono, è buono. Stai andando bene, ti manca 1,15. ...eще... ...dai mantieni sto pezzi, mantieni sto pezzi, mantieni questo, mantieni questo. Vai venissimo, vai venissimo, dai. Bravo, bravo, dai, tieni, 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 dagli gamba, dagli gamba, mantieni sto pezzi ancora. Dai, incomincia a aumentare adesso, vai. Marco, venti secondi, dai venti secondi, vai. Tira, Marco, tira, tira a casa, dai, che manca a dietro, sei più forte. Tira, tira, vai. Vai, 70, vai. Tira. Vai, dai, camo. Tantala, tantala, tantala. Due, dai. Piccola, piccola, dai. Buono. Bravo. Con calma, quando sei pronto, parto. ... Guarda il bilanziero un po' più qui vicino. Vieni, vieni. Boh, va bene. ... ... ... ... 4 4 4 5 4 5 5 6 7 e 4.40 1 minuto e 40 2 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 minuto e 40 5 minuto e 40 3 minuto e 40 3 minuto e 40 3 minuto e 40 3 minuto e 40 10 secondi 3 2 1 go 1 2 3 4 base sotto 5 6 7 8 9 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 6 8 9 10 10 11 10 11 11 12 11 Vieni più veloce nei barre, senta abbraccio. Tre. Buono. Quattro. Cinque. Vai, dai! A ritmo, a ritmo, a ritmo, a ritmo. Vai, non ti fermare. Vai piano, vai di più piano. Sei. Sei. Sette. Vai Marco. Otto. Vai piano, vai piano su. Nove. Dieci. Buono, ritmiata. Dai. Pull up, pull up. Pull up, pull up, pull up. Dai di lui. Vai. Uno. Due. Vai Marco. Tre. Quattro. Cinque. Chi fa bene, dai. Sei. Sette. Uno. Vai, otto. Vai. Dritto, dritto Marco, in piedi, in piedi. Dai Marco. Sta su Marco. Dai Marco. Ti mancano due minuti, devi fare un altro giro senza meno. Respira e parte. Vai Marco. Marco, ultimo. Non lo lasciare, dai. Uno. Due. Tre. Quattro. Tiello. Cinque. Va bene, rimani dritto, stai in piedi, respira. Vai Marco. Tre. Tre. Due. Uno. Vai. Fanne quattro. Sei. Sette. Dai. Otto. No, Marti, chi se l'hai, dai. Te ne mancano quattro. Un minuto e mezzo, un minuto e mezzo. Vai Marco, devi tirar fuori adesso, se no dai eh. Tutto. Nove. Dieci. Dodici. 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 Parti subito, subito. Piano ma subito. Piano, vai piano. Dai, su. Rimbalza e parte, rimbalza e parte. Dai Marco. Due. Non ti fermare. Non ti fermare. Non ti fermare. Vai così, va bene. Va bene. Dai. Tre. Dai, 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 dai. Marco, non ti devi fermare. 50 secondi, adesso che devi andare, cazzo. Dai eh. È tutto inutile se no. Tira, cazzo. Quattro. Quattro. Dai, oh. 5 minuti. 5 minuti. 5 minuti. Dai Marco, veloce cazzo. Dai. Dai. 30 secondi, tira cazzo. 7. Dai, testa lì. Dai. Vai Marco. 8. 20 secondi, tira cazzo. Tiro. 9. Dai. Subito. Dai, via, via. Dai. Dai. 8. 7. 1. Ma cagate. Ma cagate. Ti ho porco. Bravo Marco. Bravo Marco. Bravo Marco. Bravo Marco. Bravo Marco. Grazie.